Il segreto della gioia della speranza cristiana è affidarsi all'amore di Dio, che non viene mai meno, anche nelle circostanze più avverse e attraverso i nostri fallimenti, e capire che se Dio dimora nel nostro cuore, è Lui stesso che si fa vicino e serve tutti coloro che incontriamo ogni giorno sul nostro cammino. Lo ha sottolineato Papa Francesco nella Catechesi dell'udienza generale tenuta in Piazza San Pietro, nella quale ha proseguito il ciclo sulla speranza cristiana. Commentando il passo della lettera ai Romani, nel quale San Paolo invita ad essere lieti nella speranza, il Pontefice ha ricordato che l'Apostolo ci mette in guardia dal rischio che la nostra carità e il nostro amore sia ipocrita. Accade quando è un amore interessato, quando facciamo servizi caritativi per metterci in mostra. L'errore, ha spiegato il Papa, è credere che la carità sia un prodotto del nostro cuore, mentre è anzitutto una grazia. Non consiste nel far trasparire quello che noi siamo, ma quello che il Signore ci dona e che noi liberamente accogliamo. Perché anche il nostro modo di amare è segnato dal peccato e tutto quello che possiamo vivere e fare per i fratelli non è altro che la risposta a quello che Dio ha fatto e continua a fare per noi. E questa è la fonte della gioia e della speranza. Tutti infatti facciamo l'esperienza di non vivere in pieno o come dovremmo il comandamento dell'amore. Ma anche questa è una grazia, perché ci fa comprendere che da noi stessi non siamo capaci di amare veramente. Abbiamo bisogno che il Signore rinnove continuamente questo dono nel nostro cuore attraverso l'esperienza della sua infinita misericordia. E allora sì che torneremo ad apprezzare le cose piccole, le cose semplici, ordinarie, che torneremo ad apprezzare tutte queste piccole cose di ogni giorno e saremo capaci di amare gli altri come li ama Dio, volendo il loro bene, ciò che siano santi, amici di Dio. Grazie a tutti.